Consigliere, per l'assessore Veri, il PD o surrogati del PD tirano fuori questi famosi 100 milioni di euro ogni settimana. È proprio così? Ma esistono? Ci sono? È un disavanzo che c'è? La situazione è chiara, cioè da una parte ci rispondono gli uffici dandoci dei numeri che noi riportiamo. Io stesso ho fatto un'interrogazione, la stessa Veri mi ha risposto dicendo e certificando quelli che erano debiti Covid e debiti non Covid. Quindi c'è una situazione che ci preoccupa. Giovedì ci sarà un'audizione importante e quindi di conseguenza avremo modo di audire i vari manager e i vari rappresentanti della regione. In quell'occasione si farà chiarezza e così avremo finalmente ben chiari la situazione debitoria della nostra ASL che ripeto è un'allarme che noi gettiamo valutando gli ultimi mesi. Quindi quello che ci preoccupa è anche ciò che ci aspetta con questo trend. Facciamo i conti della serva. Le spese del Covid sono stati dati 200 milioni di euro. Il disavanzo è di 101 milioni di euro. Quindi sarebbero stati spesi 301 milioni di euro. Sì, ma tra l'altro c'è un altro dato che simpaticamente andrebbe analizzato. Chiedono 2,2 miliardi di euro tutte le regioni in Italia. Pare che all'Abruzzo tocchi praticamente una quota come 50 milioni di euro. Quindi di conseguenza le regioni, compreso Marsiglio, in un ragionamento hanno fatto una richiesta che vedrebbe l'Abruzzo indennizzata di 50 milioni di euro. Quindi loro stessi ammettono che il debito Covid è intorno ai 50 milioni di euro. Quindi è su questo che giovedì dovranno darci delle risposte e dovranno chiarirci quella che è la situazione.